Il tiro... Para André! Buongiorno! Para Unana! Para Unana! Non si possa stasera, non ce n'è per nessuno! Ha fatto Golanan, è finita! È finita qui! Ha fatto Golanan ed è finita! È finita qui! 2-0! Inter batte Benfica! Benfica 0! Inter 2! L'andata dei quarti di finale di Champions è nostra! Che dimostrazione di forza dei nostri ragazzi! Abbiamo vinto noi! Aldalus! L'Inter si riaccende dopo un mese difficilissimo, tira fuori l'orgoglio! Siamo andati con il petto in fuori, l'animo nell'azzurro a spingere, tanti problemi da risolvere sicuramente, però Simo oggi non c'è bisogno di analisi! Abbiamo vinto l'andata dei quarti di finale di Champions League 2-0 Contro il Benfica alla vigilia sembrava di incontrare un mix tra Jarlem, Globtrotters, il Ajax di Cruyff e il Barcellona di Guardiola Sembrava di dover affrontare la squadra più forte del millennio Sembrava che quest'Inter dovesse andare lì per concedere la passerella a questi ragazzi del Benfica che hanno fatto la loro partita, me li aspettavo ancora più aggressivi, ancora più qualitativi, ancora più forti, l'Inter secondo me oggi ha dato una grande dimostrazione di forza con tanti problemi ancora da risolvere ma ha dimostrato di essere più forti di questo Benfica. Sinceramente fin dai primi minuti io Simo ho visto un Inter più forte e che ha ampiamente meritato di portarsi a casa questa vittoria per 2-0. Ma che sia più forte non lo so, però sicuramente la vittoria è strameritata perché la partita è stata preparata da Dio Inzaghi non ha sbagliato niente, neanche i famosi cambi che spesso purtroppo gli è capitato di sbagliare come peraltro capita a ogni allenatore Partita giocata molto bene Primo tempo un po' più guardingo tant'è vero che anche nelle azioni due ne sono accadute nel primo tempo tutte le altre nella ripresa Inter che comunque ha saputo mantenere anche il ritmo giusto anche nella ripresa quando giustamente ci si aspettava un Benfica più aggressivo con magari anche qualche uomo dalla panchina come per esempio Neres che infatti è entrato l'Inter però ha retto benissimo ha trovato un gol importante con Varela già dopo pochi minuti al 51esimo e ha fatto ripeto una partita perfetta tant'è vero che nei numeri e nelle pagelle non credo che nessuno meriti meno di 6,5-7 oggi nessuno compreso il tanto vituperato Correa che è entrato e ha fatto bene e poi certo il secondo gol arriva in maniera un po' episodica però per una volta premia una squadra che ha interpretato perfettamente la partita quante volte anche soprattutto in campionato l'Inter è stata poco premiata dagli episodi, dalle situazioni qui il secondo gol arriva con questo fallo di mano di cui nessuno si era accorto però consente all'Inter di portare a caso un risultato enorme perché sfido chiunque a pronosticarlo con una certa dose di previsione più che di speranza diciamo così e la maggior parte di noi credo a bocce ferme avrebbe firmato per un pareggio io non ho problemi a dirlo anzi io addirittura avevo detto che avrei firmato quasi per una sconfitta di un gol, figuratevi no, addirittura no, di un solo gol per come arrivavano le due squadre poteva essere un risultato firmato no però nel senso poteva essere un risultato comunque accettabile invece cavolo 2-0 l'Inter zittisce tutti e adesso adesso niente adesso c'è il ritorno prima di dire altre cose adesso c'è il ritorno allora è ovvio non c'è da esaltarsi troppo assolutamente perché sappiamo bene che c'è un ritorno da giocare non vogliamo doverci rimangiare quello che stiamo dicendo stasera però Simo non lo so ovviamente siamo nel post partita quindi sempre più facile parlare in questo momento però per chi mi ha seguito in queste ore nelle analisi che ho presentato pre partita tanto chi ha seguito le analisi pre partita visto che vi avevo previsto tutto come si sarebbe dovuto giocare e come si poteva battere questo eccolo Velcoro grande angelo lo avevi detto bastoni per barella tac comunque io avevo visto nel Benfica giocare contro il porto qualche piccolo segnale qualche inclinatura stamattina nella live preview avevo detto è come quando prendi un sassolino sul parabrezza che ti crea quel piccolo buchetto dal quale tu puoi andarci poi a mettere dentro il dito nella piaga per cercare di allargarlo l'Inter per me oggi ha fatto una partita intelligente gestendo i vari momenti loro non sono partiti con quel pressing asfissiante che forse mi aspettavo e quindi noi abbiamo fatto anche più possesso palla di quello che mi aspettavo perché il primo tempo l'Inter lo chiude con il 53% di possesso palla e a livello di occasioni loro hanno fatto quell'occasione con il tiro parato da un'ana che è stata un'occasione un po' più ghiotta rispetto alle nostre che le nostre sono state tutte occasioni potenziali come ormai purtroppo capita da diverso tempo a questa parte con Lautaro e Dzeko che sono stati un po' spuntati però hanno favorito molto la manovra dei nostri infatti i migliori secondo me nel primo tempo sono stati tutti i centrocampisti con Mkhitaryan e Barella in modo particolare poi il secondo tempo mi aspettavo loro giocano in casa inevitabilmente dovranno alzarsi un po' di più dovranno cercare di venirci ad aggredire un po' di più e quindi chiuso il primo tempo sullo 0-0 con loro costretti a sbilanciarsi un pochino ero convinto che le scelte di mettere Gosens e Lukaku potessero risultare vincenti forse le avrei messi anche un attimino prima il risultato però ha dato ragione all'allenatore a livello di scelte e di interpretazione di gara Barella ha fatto una super prestazione secondo me e il gol la certifica ai massimi livelli non lo so adesso me la riguarderò con calma la sensazione con cui esco da questa partita è che me li aspettavo loro più forti da noi mi aspettavo noi abbiamo fatto un grandissimo risultato in attacco dobbiamo ancora sbloccarci questa è un po' la mia sintesi su questo tipo di partita qua perché con un Inter a pieno regime con un Inter con il motore acceso e che va questa la vincevamo anche 3-0 4-0 comoda secondo me te la metto lì così no vabbè ma ci può stare da un lato secondo me non lo dico assolutamente per ridimensionare l'Inter che ripeto è stata perfetta io credo che anche il Benfica oggi sia un po' mancato in generale perché non è mai riuscito ad alzare il ritmo pur giocando in casa pur avendo poi inserito anche giocatori che favorivano questo tipo di sviluppo e cioè se dovessimo dare un voto ai 4 offensivi del Benfica non se ne salva uno secondo me Joe Mario in assoluto il peggiore e lo ringraziamo tutti gli altri comunque non arrivano al 6 quindi anche questo sicuramente conta però secondo me l'Inter cioè la cosa che non ci fa essere forse pienissimamente sicuri e che ci lascia un po' così frastornati è che alla pari di questa Inter in Coppa vediamo un Inter in campionato che non batte la Salernitana è questo perché se l'Inter avesse mantenuto la metà di questo rendimento di questa concentrazione stava a seconda in carrozza e allora potevi già dire beh comunque sei secondi in campionato ci sta che con un pizzico anche di fortuna nel sorteggio arrivi lì e invece cavolo vedi un Inter che a momenti è sesta in campionato dici che cavolo sta succedendo però in Coppa tre partite dopo la fase a gironi zero gol subiti diciamo anche questo cioè è veramente un qualcosa di di importante il lavoro che stiamo facendo speriamo di non vanificarlo appunto in campionato perché sarebbe un peccato enorme però ancora una volta in Coppa l'Inter fa una partita gigantesca e manda un messaggio molto pesante perché poi in vista del ritorno io penso che i tifosi del Benfica si sentissero abbastanza sicuri e favoriti hanno preso due schiaffoni niente male questo sicuramente al ritorno li renderà più guardinghi sicuro però però intanto partiamo con due gol di vantaggio che non è male e lo stadio tutto a favore che non è male e vediamo come va io non lo so Simo sono molto convinto non ho mai avuto il dubbio durante questa partita sinceramente l'ho sentita tantissimo non voglio essere sbruffone così cerco di essere più sincero possibile quando faccio le mie analisi e lo sapete tutto lo sapete tutti io sono molto fiducioso per San Siro cioè non posso accettare un rendimento diverso un risultato diverso dal nostro passaggio del turno a questo punto consapevole comunque che sarà molto molto tosta anche la gara di ritorno ragazzi non lo so io non voglio andare molto oltre in questa analisi perché secondo me già il solo fatto che l'Inter abbia vinto l'andata dei quarti di finale di Champions League con un 2-0 secco al ritorno deve essere una notizia è una notizia storica io uso questa parola ancora una volta perché pezzo dopo pezzo stiamo segnando ancora un pezzo della nostra storia io non ne ho visti molti di quarti di finale di Champions League quindi stasera l'ho sentita veramente tanto tra poco a parte faremo le pagelle a livello di occasioni Simo non so se devi segnalare qualcosa tu in particolare io ho detto i miei migliori in campo come dicevo Mkhitaryan Barella mi è piaciuto molto Onana ancora una volta oggi ci ha messo le manone in più di un'occasione anche perché nel finale grandissima occasione per il Benfica praticamente a tempo scaduto fa una parata decisiva e questa soprattutto nell'arco dei 180 minuti rischia di pesare quanto un gol di fatto è passata leggermente in sordina ma Onana ha salvato non è che ha salvato l'Inter perché poi comunque eri 2-0 però chiudere vincendo 0-2 o vincendo 1-2 e dall'altra parte perdere 0-2 o perdere 1-2 fa una differenza enorme e adesso non mi ricordo chi ha calciato ma l'uomo del Benfica era solo davanti ad Onana che ha fatto una gran parata e questo dimostra anche quanto fare partite di questo tipo in Champions League è difficile cioè l'Inter non ha sbagliato niente in tutta la partita ha sbagliato un pallone molto grave Brozovic perché lì non devi perdere una palla poi da ammonito quindi non puoi neanche spendere il fallo se non vieni espulso e sbagli un pallone loro fanno una verticalizzazione in 90 minuti e a momenti fanno gol quindi questo con questo pizzico di fortuna dimostra quanto è difficile ed è e quanto ha valore fare una prestazione di questo tipo in Champions League credo non ci sia nulla da dire oggi a questa Inter non c'è veramente nulla da criticare e da eccepire fantastico questi sono gli appunti da migliorare un attacco un po' più in partita un attacco un po' più decisivo lì negli ultimi metri qualche imprecisione di meno in alcune uscite Lautaro ha perso un brutto pallone Gossens lo stesso praticamente ognuno secondo me ha avuto almeno un brutto pallone sanguinoso perso anche perché il Benfica ha impostato così nel senso che è bravo a farti perdere dei palloni che loro poi rendono sanguinosi e quindi su questo assolutamente va detto dall'altro lato anche Gossens ha avuto l'opportunità per fare il 3-0 per chiudere del tutto la partita che purtroppo non l'ha sfruttata al meglio gli esterni non mi sono piaciuti moltissimo Dunfri si è cresciuto alla lunga alla lunga forse certifica anche lui poi una buona prestazione però all'inizio non era non era partito molto bene la chiudo qui nel frattempo dall'altro lato del tabellone Simo il Manchester City ha battuto 3-0 secco il Bayern e adesso domani ci godiamo le altre Milan-Napoli che ci interessa più da vicino perché sarebbe un'eventuale semifinale contro la vincente di queste Sì battere la porta mettere la porta mettermi lì in mezzo e gridare veramente a ognuno ma dove è stata quest'Inter nelle altre partite dove cavolo è questa Inter che abbiamo visto oggi che abbiamo visto in altre partite di Champions quando si affrontano le altre squadre in campionato quando si fanno le altre partite di campionato non lo capisco non lo capisco è un mistero chiudiamo qui questa clip a parte troverete come sempre le nostre pagelle dei tifosi quindi se volete iscrivetevi anche noi iscrivetevi anche voi al nostro canale per poter dare i voti insieme a tutti noi e non perderevi neanche uno dei nostri contenuti ogni giorno